speciale festival show ci ha raggiunto sul nostro track anche paolo belli bentornato ciao grazie di avermi di nuovo invitato sono felice perché voi siete una rarissima realtà che rispetta tantissimo la musica cioè fate musica dal vivo con l'orchestra quindi non posso fare altro che dirvi grazie perché poi non solo ho la possibilità di esibirmi con la grande orchestra ma proprio anche di godere tutti gli altri artisti con la musica quella suonata dal vero tu che poi sei abituato alle big band per te un'orchestra piccola di quanti elementi è cioè il minimo con cui suoni proprio il minimo sindacale da lì in su sì o grazie adesso sto girando con questa tournée siamo in 15 però spesso giro anche con orchestre da 30 elementi è bello perché sai mi fa sentire anche molto importante nel senso c'è una crisi pazzesca noto nel mondo della musica e sapere che immodestamente lo dico però insomma è un dato di fatto riesco a far sopravvivere una trentina di persone mi rendo orgoglioso insomma senti non solo in italia perché poi parti per una tournée all'estero che vi porterà un po in giro dove andate che cosa proponete dopo domani partiamo per il canada la quarta volta che andiamo in canada poi sud america insomma grazie alla trasmissione grazie a ballando che ci la rai italia arriva in tutto il mondo grazie anche ai miei musicisti che suonano in maniera straordinaria quindi in giro per il mondo non solo ci vedono ma sentono anche che i ragazzi miei ragazzi fanno musica di qualità ci stanno chiamando in giro già da vari anni perché qua vedo dei ragazzi giovani non so se loro lo sanno penso anzi sicuramente no lo swing italiano è famoso da sempre tutto il mondo il jazz lo swing è nato in italia è stato un italiano a esportarlo in america nel al fine del 1800 quindi gli americani gli australiani canadesi sono molto attratti dallo swing italiano non a caso carosone buscaglione iannaccio e arbore immodestamente chiamano anche il sottoscritto e ci andiamo quindi partiamo dopo domani fino alla fine di settembre poi da ottobre ripartiamo col tour teatrale pur di fare musica in tutti i teatri italiani senti che cos'è pur di fare musica non è solo un concerto è proprio una pièce teatrale cosa cosa vediamo quando veniamo a vederti guarda l'ho scritto assieme alberto di risio che l'autore di fiorello panariello insomma non ha bisogno di presentazioni è la storia di una band che cerca musicisti fanno dei provini sai per televisione si vede x factor si vede the voice quella è una è la parte con i luci le luci che si accendono poi esiste tutto un dietro scena raccontiamo tutto quello che succede ad esempio nella pièce teatrale arrivano quattro gemelli che non si sopportano l'un l'altro abbiamo un chitarrista sordo abbiamo troviamo che insomma ne capita in tutti i colori naturalmente però talmente così divertente che l'arcano svela che alla fine la musica fa il miracolo pur di fare musica musicista fa qualsiasi cosa perché poi la musica fa i miracoli e fa star bene le persone e alla fine vedi si unisce tutto allora ti vedremo con questa nei teatri con pur di fare musica ma tornerà in televisione ormai sei una presenza fissa nel nostro cuore ballando con le stelle e posso chiedere regista di fare un'inquadratura stretta che devo fare i dovuti scongiuri scusate perché ci tengo tanto è una trasmissione che amiamo da 13 anni abbiamo fatto teletone assieme 13 anni fa poi lei le è piaciuto molto il mio essere bravissimo no io sono un saltimbanco disordinato mille le piace questa cosa e quindi sono 13 anni che mi permette di stare al suo fianco e oltre a questo porti avanti anche teletone che è un progetto meraviglioso teletone la nazionale cantanti sono quelle cose che mi fanno capire che nella vita ognuno di noi ha il dovere di migliorare questo mondo e quelli sono due mattoni che ogni volta mi permettono di costruire questa grande casa cosa che poi voi anche voi fate con la città della speranza io credo che non ha senso stare al mondo se uno non fa solidarietà quindi teletone e quindi anche con teletone saremo in televisione a dicembre poi le nazionali cantanti tra 20 giorni ritorneremo sui campi ahimè perché poi io posso far solo la palla ormai non riesco più a fare il presidente ragazzi ma insomma tanti anni militato sul campo i giovani stanno entrando un po alla volta perché milioni di anni con gli storici che però cominciavano ad avere una certa età ma meno male moreno e fortissimo si si è bravo ben jeffede sono fortissimi molto bravi anche loro i dear jack e decoro stanno arrivando tu er malmetta si veramente c'era bisogno di un ricambio generazionale di ramazzotti dei grandi storici è giusto che ci siano però è giusto che ci siano anche i giovani però devono fare il presidente è difficile di questo gruppo di pazzi perché poi fondamentalmente no tutti i musicisti tutta gente un po creativa non è difficile per quanto mi riguarda ho avuto dei maestri che sono stati mogol morandi ramazzotti ruggeri barbarossa pupo è bastato guardare loro attentamente e imparavi ogni volta e poi adesso basta anche confrontarsi li chiamo gli dico ragazzi ma come mi dovevo muovere in questa situazione o dei bei dei belli insegnanti e poi c'è un gruppo giovane che ti segue quindi sai alla fine 30 anni di attività e donati qualcosa come più di 100 milioni di euro devi essere responsabile con fare il presidente devi essere una persona responsabile ma c'ho dei bei maestri bravi maestri che mi insegnano la strada è meravigliosa allora questa sera sarai sul nostro palco cosa ci fai fare un viaggio nella tua musica ci fai ballare ci fai cantare come fai ogni anno allora i musicisti si sono molto preoccupate perché le avevo mandato delle parti delle partiture sono arrivato glielo cambiate tutte io ho anche detto guardate che mancano ancora due ore quindi chissà che cosa succederà però siccome sono bravi la musica live è bella anche perché devi improvvisarla no quindi farò qualcosa di storico farò qualcosa di nuovo sulla carta poi vediamo poi dovete rimanere collegati con la televisione con la radio e sentirete se abbiamo fatto bene o fatto male però se viene fatto bene la merito è loro se viene fatto male questa sera sul nostro palco paolo bellia dopo grazie a tutti